Io sogno Carlo Tegnoso. Vennevo parli e messaggiato. Poi mi fece una moita e mi sequestrò pure un figo. E' anche se è troppo potente, i cristiani hanno bisogno di obiettivi, di moneta forte. Pugliavo a mia moglie Rosetta, mia figlia Asparino e mia figlia Rosa Raggiaggione. Una settimana di stanza di pranzo e c'era sé, una magrappone un po' il sicilio. Mi fece pizzo dei piccoli interessi e rapevo una potea. I cristiani vengono e portano uno di tutto. Io cerco quanto vale e cerco i miei piccoli. Io sogno Carlo Tegnoso e me la fevo un po' il sicilio. Un monte di pietà.